Una vetrina nel cuore di Orio Center, uno dei più grandi centri commerciali di Europa. Un'opportunità che il gruppo Bonaldi ha colto realizzando Temporary Expo, un importante spazio espositivo di oltre 200 metri quadri dedicato alle vetture del gruppo Volkswagen. L'idea di venire a Orio Center è una idea che viene da lontano. Siamo stati varie volte all'interno di questo complesso, ma sempre con singole macchine in singole postazioni. Era da tempo che cercavamo una location un pochino più rappresentativa e che ci permettesse di esporre in modo continuativo i vari modelli delle nostre marche. Partiamo con Volkswagen, che è la marca numericamente più importante del nostro gruppo, ma nell'arco dei sei mesi in cui occuperemo e saremo presenti a Orio Center, alterneremo altre marche, quindi alterneremo Seat, Skoda, Audi e soprattutto presenteremo qui le novità che queste nostre marche presenteranno nel corso di questi mesi. Inoltre, come attrazione ulteriore, esporremo di volta in volta o delle auto sportive che partecipano ai vari campionati nel nostro settore di Bonaldi Motorsport. In questo caso abbiamo la Lamborghini, vincitrice lo scorso anno del campionato mondiale europeo Lamborghini Monomarca. E alterneremo anche macchine del nostro museo, quindi macchine storiche, per fornire un'occasione di attrazione in più ai frequentatori di Orio Center. Chi fa delle domande ed è interessato poi a un preventivo o comunque è interessato a un eventuale acquisto riceverà un bonus, riceverà un coupon che gli dà diritto, nel caso di un acquisto della vettura nell'arco dei prossimi tre mesi, gli darà diritto a una settimana di vacanza gratis in una location italiana. Grazie.